Hai la mandibola bloccata nel senso che non riesci più ad aprirla bene e hai una forte rigidità, tensione nella zona tra la mandibola e il mento? In questo video ti spiego che cosa fare e quali sono gli esercizi che ti possono aiutare a sbloccarla subito. Ciao, sono Massimo De Filippo, fisioterapista e agisco sulla causa per eliminare i sintomi. Sono specializzati in terapia manuale dolce ed esercizi perché sono quelli che mi danno i risultati migliori più a lungo termine e senza effetti collaterali. E ora leggi attentamente il disclaimer. Partiamo con una precisazione doverosa. Non è che se una persona prende un pugno sulla mandibola o se cade, batte il viso, allora deve fare degli esercizi. In questo caso bisogna andare subito al pronto soccorso per capire se c'è stato un problema come una frattura o un'altra lesione. Se un paziente invece si sveglia la mattina oppure durante la giornata sente una forte tensione e quindi ha dolore e non capisce il motivo, non se lo sa spiegare. In quel caso allora sì, può essere utile fare questi esercizi che ora vediamo che mi andranno a sciogliere la muscolatura, a rilassare la muscolatura e mi aiuteranno a sbloccare la mandibola. Ricordo una paziente che dormiva tutta la notte con un cerotto davanti alla bocca perché se no dormiva con la bocca aperta. Dice io adesso uso questo cerotto, mi trovo molto bene. Ok. A un certo punto mi chiama una mattina, oh io mi sono svegliata e ho la bocca bloccata, la mandibola bloccata, cioè non riesco ad aprire bene la bocca. Vabbè vieni che ci guardiamo e ho guardato, ho massaggiato un attimo, abbiamo fatto qualche movimento così e si è sbloccata. Però questa cosa dopo un po' è risuccessa, è tornata, abbiamo rifatto il trattamento, si è sbloccata, però a volte le succedeva anche a casa in altri momenti e in pratica aveva imparato a fare alcuni movimenti da sola per sbloccare bene o male la mandibola, finché una mattina si presenta e dice io mi sono bloccata e lì ci abbiamo lavorato, ci abbiamo lavorato, ci abbiamo lavorato, non si è sbloccata subito, poi è andata a casa mezz'ora dopo e mi ha detto guarda sono andata a casa appena ho iniziato a mangiare e si è sbloccata subito perché si vede che mancava qualcosina, mancava l'ultimo movimento che ha fatto quando ha mangiato diciamo. Però a un certo punto abbiamo riflettuto ma perché cos'è un mese o due che praticamente ti blocchi con questa mandibola ogni tanto mi chiami, cioè non possiamo andare avanti così, cerchiamo di capire un attimo la causa e poi gli ho detto ma cos'è successo due mesi fa? E due mesi fa ho iniziato a mettere questo cerotto che mi bloccava, mi chiudeva la bocca così non dormivo con la bocca aperta. Allora da lì abbiamo iniziato a provare senza cerotto, effettivamente non si è più bloccata, non mi ha più chiamato. Quindi tante volte questi rimedi bisogna stare attenti perché forzare il corpo non va mai bene, se il corpo tiene la bocca aperta di notte c'è da capire perché non forzare la chiusura. Ok, vediamo ora la nostra parte. Cosa posso fare io se a un certo punto mi sento tipo un crampo, una forte tensione qui oppure se non riesco ad aprire bene la mandibola o se ho problemi a spostarla anche? Beh, dovete sapere che ci sono dei muscoli che lavorano sulla mandibola che sono all'interno della bocca e dei muscoli qua sotto il cosiddetto pavimento buccale che potrebbero essere molto indolenziti. Altri muscoli che ci permettono di chiudere la bocca sono qui il massetere e il temporale che però si vedono, si sentono, è difficile che siano questi a bloccarmi. Ora, cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare dei movimenti per andare ad accorciare. Andiamo ad accorciare questo muscolo, se facciamo il movimento giusto anche a casa possiamo provare anche da soli, non è grave, tanto sono solo dei movimenti, dei test, delle prove, non andiamo a fare dei danni. Ovviamente come dicevo prima evitate se avete appena avuto un trauma o se avete qualche malattia o se esiste una qualunque possibilità di avere una frattura o qualsiasi altra cosa, in quel caso andate subito a pronto soccorso perché questi esercizi non avrebbero molto senso. Ok, vediamo, cosa possiamo fare? Il trucco sta nel trovare la posizione giusta del collo e della mandibola, posizione che se trovata in uno o anche due secondi potrebbe già rilassarmi abbastanza il muscolo in modo da permettere lo sblocco della mandibola. Quindi, cosa possiamo fare? Aprire, chiudere la bocca, così. Difficilmente è sufficiente. A questo punto apriamo, spostiamo la mandibola a destra e sinistra. Potreste sentire degli scrocchi come nel mio caso, potrebbe non essere niente, quindi non è necessariamente un problema. Ok, anche in questo caso potrebbe essere utile ma non è detto. A questo punto la cosa che generalmente aiuta di più è l'associazione dei movimenti della mandibola e del collo, quindi con la bocca aperta. Adesso proviamo a fare questo movimento. Mettiamo caso che io senta tensione a destra. Io la prima cosa che farei è piegarmi a destra e ruotare la testa a sinistra in questo modo. Poi a questo punto posso accoppiare il movimento della mandibola, quindi a e la flessa estensione del collo, quindi guardo in alto e in basso. Ripetiamo, quindi ruotiamo dal lato opposto, pieghiamo dallo stesso lato, poi associamo piegamenti davanti, piegamento all'indietro, estensione del collo, con la bocca più o meno aperta. Possiamo nel frattempo anche provare, mentre facciamo questi movimenti, a muovere la mandibola destra e sinistra, così. In questo modo noi dovremmo riuscire a trovare una posizione più confortevole. Mettiamo che io così, in questa posizione, mi sento più confortevole. Ottimo! Vuol dire che posso mantenerla. La manteniamo un secondo o due e vediamo se questa posizione mi toglie i sintomi. Se invece mi metto magari un movimento opposto, quindi inclinazione laterale opposta, rotazione dallo stesso lato del dolore, bocca aperta, se qua sento una maggior tensione, un maggior tirare, allora non è il caso di andare avanti, dovremo evitare. Possiamo tornare alla posizione di partenza. Se questo non bastasse dovrete andare al pronto soccorso o comunque dal medico, poi vedrà lui se mandarvi dall'osteopata, fisioterapista, qualcosa. In modo da sbloccare anche manualmente, cioè adesso non immaginate che uno faccia un cric-crac della mandibola, però ci possono essere dei movimenti della mandibola, prendendo anche l'arcata dentale, si può provare a spostare, a girare e a sciogliere un pochino la muscolatura, pian piano ci molla. Però questi qui comunque ho visto che in generale mi danno ottimi risultati. Quindi vi consiglio di provare tutti questi movimenti, ripetiamo piegamento, di solito piegamento e rotazione opposta. Potete anche provare piegamento e rotazione dallo stesso lato. Poi flessione, estensione della testa e poi apertura della mandibola e spostamento da destra a sinistra. Provate una serie di combinazioni. Provate a mettervi in una posizione, muovete un po' la mandibola e vedete cosa succede. Poi cambiate posizione, muovete la mandibola e vedete cosa succede. Grazie per l'attenzione. Ora guarda questo video che ho preparato con cura per spiegarti bene cosa fare. Però prima non dimenticare di mettere like, pollice alto, condividere con tutti i tuoi amici se vuoi farli stare bene e lasciare un commento per qualunque domanda o suggerimento. Rimaniamo in contatto, seguici su Facebook e Instagram.